Signor Alpi, una lettera molto dura a quella Repubblica, una lettera in cui lei dice ho ricevuto troppe umiliazioni in questi anni, la mia è quasi una resa. Perché? Chi l'ha delusa di più? Beh, dovrei stare qui un po' di tempo per dire chi mi ha deluso un po' di più. Tutti, la Procura, le istituzioni di questo Paese, parte dei giornalisti anche, perché molti non si sono comportati bene con Ilaria, che era una loro collega. Per cui questa lettera è dura ma veritiera, perché dice cose vere. Io mi aspettavo che dalla Procura di Perugia, dopo che sono venute fuori le motivazioni, dopo che hanno scarcerato Ashi Omar Hassan, non ci dimentichiamo, che è stato in carcere per ben quasi 17 anni, innocente, sottolineiamo innocente. Lei lo ha detto dall'inizio. Noi siamo andati dal Procuratore della Repubblica, io insieme ai miei avvocati, da mati, padre e figlio. E niente, come se niente fosse. Signora, mi dica lei chi devo interrogare. Io ho detto, io veramente non sono tenuto, perché non è il mio mestiere di interrogare qualche indiziato. Non lo faccio, non sono un magistrato né un giudice. E questo è quanto. E allora ho detto, qui non c'è proprio niente da fare. E allora mi sono cadute proprio le braccia. E allora ho deciso di scrivere la lettera, di mettere nero su bianco e di salutare i signori. Io ho perso, perché io ho perso. Ho chiesto scusa a mia figlia, che lasciavo. E sono sicura che se lei fosse stata qua, certo non ci sarebbe tutto questo trambusto, ma se lei mi potesse parlare, mi direbbe mamma, l'avrei fatto prima. Sono sicurissima di questo. E questo mi dà, così, un po' di calma. Ma sono veramente amareggiata di questo comportamento, perché Ilaria non meritava questo. Un comportamento che lei attribuisce a che cosa? Ha una indifferenza nei confronti di questa vicenda, a delle omertà, a delle complicità. Sappiamo tutto quello che questa vicenda ha avuto come implicazioni. L'attenzione di Ilaria nei confronti dei traffici internazionali, di armi e tutto quello che questa cosa in qualche modo ha scatenato. I rapporti con l'Italia, la Somalia, i governi dei rispettivi paesi. A questo punto, perché la giustizia in questo caso è così lenta e così frammentaria? Queste sono le ipotesi che faccio io, perché non penso ad altro da 23 anni. Non ci dimentichiamo che lunedì 20, 2017, Ilaria, sono 23 anni che l'hanno uccisa. E insieme a Miran Rovati e al suo collega. Secondo me, lei stava facendo un'inchiesta piuttosto scabbrosa, che non era una, era più di una, il traffico d'armi, il traffico di rifiuti tossici e la mala cooperazione. Perché la mala cooperazione, Ilaria, l'hanno trovato a Saxarubra, in un suo cassetto, un block notice, uno dei pochi rimasti perché stavano a Roma, dove c'è scritto dove è finita questa immensa mole di denaro, 1.400 miliardi che l'Italia ha dato alla Somalia per la cooperazione. Lei in questi anni ovviamente ha seguito tutta la vicenda giudiziaria, ha ricostruito anche insieme ai suoi avvocati tutta la vicenda di Ilaria. Dal suo punto di vista, chi è stato e chi ha coperto? Chi è stato è un po' difficile. Secondo me c'è molta responsabilità italosomala, italiani e sommali. Questo è indubbio, perché se no non avrebbero tutta questa. Vedo quanto sono bravi per altre cose, per altri incidenti come questo di Ilaria. sono molto attivi. Perché per Ilaria e Miran no? Questa è una domanda che mi pongo. Che sono figli, figli altri, perché? Sono morti tutti uguali, non ci sono più. Tutti giovani. E allora? Che è successo per Ilaria? Ci sono implicati gli italiani. Tutto qua. Sono implicati gli italiani da allora fino ad oggi? Ci sono ancora, sì. Sono ancora vivi. E lavorano, e fanno carriera. Sono passati 23 anni dall'omicidio di Ilaria e di Miran. La sua lettera a Lanza è anche un appello a questo punto alla giustizia italiana, affinché colmi una volta per tutte i ritardi di questi anni? Ma io ti appelli agli italiani, ai responsabili, alle procure, ai giudici, l'ho fatte tante. Sono andata perfino al Presidente della Repubblica. Non so chi devo andare di più. E non è successo niente. Perciò che speranze posso avere io? Io sono una persona anziana, non ci avrò tanto da vivere. Per cui ho preferito uscire io che sentirmi dire che avrebbero fatto così, come si dice quando chiudono un processo. E invece ho preferito farlo io e darmi questa soddisfazione magra, amara, brutta, di dire che non li voglio più vedere. E basta. Basta così. Tra i tanti silenzi ci sono state manifestazioni di solidarietà importanti, istituzioni o associazioni o anche parte del mondo dell'informazione che però di Ilaria non si sono dimenticati? Beh, una è qui davanti a me, perché voi siete della Federazione Nazionale della Stampa, per cui mi avete dato molta vicinanza. C'è stato il vostro Presidente che è stato molto gentile, molto con me, è stata una persona stupenda. E poi sì, devo dire, le piccole istituzioni, le scuole. Per esempio è venuta una scuola, questo me lo faccia passare però questa notizia, perché ci tengo, due settimane fa sono venute due classi medie di una scuola di un paese vicino a Bergamo. Gorniago, Gorniago, Gorniago. No, non si chiama Gorniago, Scusi, sono venuti in 40 e hanno portato quel quadro lì, l'hanno fatto i ragazzi, quello lì tutto colorato che vedono. Quello vediamo. Si sono presentati con la maglietta, con la foto di Ilaria. Sono stati così gentili questi, e hanno intitolato, naturalmente, sono venuti per annunciarmi che intitolavano la scuola Ilaria. Questi, tante, non solo questi, ma tanti altri, ancora adesso, mi telefonano perché vorrebbero che io partecipassi. La verità è dietro l'angolo, ma ci vorrà ancora tempo. La verità non la vogliono, non la vogliono. Fanno passare il tempo, il tempo scorre, gli anni passano, io vado avanti con i miei anni, con le mie patologie, e sperano tanto, perché se non ci sarò più io, la cosa finisce finalmente per loro.